Musica Benvenuti e ben ritrovati a In Salute, spazio dedicato alla medicina, a benessere e alla prevenzione. In questa nostra puntata parliamo di colesterolo, colesterolo alto e dieta. Come possiamo aiutare colesterolo a ritrovare valori normali grazie all'alimentazione? Lo chiediamo direttamente al dottor Maurizio Caggiano, biologo e nutrizionista. Grazie per aver accettato i nostri inviti. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori. Anche perché questo è un argomento che sappiamo interessare molto gli amici che ci stanno seguendo da casa in questo momento perché insomma il colesterolo alto è un problema parecchio diffuso. Innanzitutto dottore, colesterolo quando lo definiamo alto? Sicuramente occorre distinguere il colesterolo nelle sue componenti che sono il colesterolo totale che è alto quando supera livelli di 200 mg decilitro, la componente HDL ed LDL. L'LDL è il cosiddetto colesterolo che si definisce cattivo che deve attenersi al di sotto dei 100 mg decilitro. Il colesterolo è importante monitorarlo e non solo questa componente perché nel profilo lipidico troviamo anche i trigliceridi. I valori ottimali di trigliceridi sono al di sotto dei 100 mg decilitro. Sicuramente... E' alto dopo i valori che c'è. Esatto, esatto. Solitamente le cause che portano questi valori ad alzarsi sono sicuramente nella dieta, quindi le abitudini alimentari, la sedentarietà, il fumo di sigaretta e poi sicuramente c'è una componente genetica che predispone ad avere questi valori, diciamo, più alti. Ci sono anche delle condizioni patologiche come ad esempio problemi di tiroide, quindi nell'ipotiroidismo e con trattamento con i farmaci si possono riscontrare dei valori più alti di quelli fisiologici. Ecco, quindi le cause, insomma, riassumiamole? Riassumendo, evitiamo il fumo. Esatto, fumo, l'alimentazione, corregge l'alimentazione, sicuramente cercare di fare del movimento e laddove c'è una predisposizione genetica, ancora di più è importante controllare le abitudini alimentari, che significa seguire un regime equilibrato sia dal punto di vista delle calorie che dal punto di vista dei nutrienti, perché a volte si tende a fare confusione su questo quando in realtà non sono solo le calorie a determinare poi gli aumenti dei livelli di colesterolo. E qui entra in gioco il biologo nutrizionista, quindi una domanda molto semplice, cosa mangiare, i cibi da evitare, poi entreremo nel dettaglio dei consigli, di esempi, quindi cosa mangiare, che cosa può aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo? Sicuramente il colesterolo si introduce con gli alimenti e così anche i trigliceridi, che sono la componente lipidica, la componente grassa degli alimenti che si introducono. Occorre limitare quei grassi, i cosiddetti grassi saturi, che sono quei grassi solidi a temperatura ambiente, come ad esempio il burro, o i grassi saturi che si trovano nei prodotti trasformati, quindi nelle merendine, anche in alcuni prodotti da forno, o comunque anche nei biscotti ad esempio. Questi grassi vanno sicuramente limitati. Va invece promosso il consumo di grassi, i cosiddetti insaturi, quindi quei grassi che a temperatura ambiente sono liquidi, come ad esempio l'olio extravergine d'oliva. I grassi buoni. Esatto, sono grassi dove in una dieta correttamente bilanciata devono trovarsi più presenti rispetto ai grassi saturi. Prima ho parlato di grassi cosiddetti cattivi, quindi i saturi, che in realtà non devono essere completamente assenti nella dieta, questo è importante, vanno limitati. Tra i grassi invece buoni, quelli insaturi, troviamo anche i grassi contenuti ad esempio nella frutta secca, quindi i famosi omega 3, gli omega 6, che troviamo anche nel pesce, c'è il pesce azzurro come l'orata, il merluzzo, la platessa. Questi grassi sono da prediligere in una dieta bilanciata. Prego, prego. Certo, certo. Dopo che siamo già anche ai cibi da evitare. Cibi da evitare, sicuramente i fritti, quindi i cibi da evitare, il fritto sicuramente è da consumo occasionale. Per quanto riguarda alimenti che creano sempre molto appetito, come ad esempio la pizza, un consumo occasionale, un consumo settimanale, non determina... La regia ha già fatto partire uova e pizza. Ecco, uova e pizza. La pizza no, consumo occasionale di pizza significa anche il sabato, ad esempio, in convivialità, non determina aumenti di colesterolo. Una volta settimana si può fare. Esatto, sì, sì, assolutamente sì. Così, così come ad esempio per quanto riguarda l'alcol, le bevande alcoliche, il vino. Il vino ha delle sostanze come i polifenoli, che sono sostanze che possono anche giovare, diciamo, il controllo di colesterolo, come ad esempio il resveratrolo, però noi dobbiamo considerare gli alimenti nell'insieme, quindi non solo per una componente di nutriente, ma nell'insieme. E il vino ha anche quella componente alcolica. Un po' si può avere. Sì, diciamo, due o tre calici di vino a settimana non determinano degli aumenti di colesterolo. E ho giorni alternati. Diciamo, sì, o giorni alternati durante la settimana, o comunque nel fine settimana maggiormente, magari o la sera, quando si rientra a casa in un momento più tranquillo, un bicchiere di vino per due o tre volte alla settimana, non determina dei problemi a mantenere dei buoni livelli di colesterolo. Ecco, i cibi consigliati? Allora, ha consigliato l'olio extravergine di oliva? L'olio extravergine, esatto. Il consumo di frutta secca? La frutta secca, quindi noci, nocciole. Il pesce, sicuramente il pesce come merluzzo, orata e platessa, pesce azzurro, esatto, in una dieta equilibrata aiutano a mantenere dei livelli di colesterolo adeguati. Per quanto riguarda invece le uova, anche le uova sono spesso oggetto di dibattito quando si parla di colesterolo, le uova sono da limitare a 4-5 uova a settimana. Questo perché non è il consumo diretto di uova a determinare un aumento nel lungo periodo, può magari determinare un aumento fisiologico dopo il consumo, però seguire la linea guida di 4-5 uova a settimana può non incidere sul lungo periodo per quanto riguarda i livelli fisiologici di un buon livello di colesterolo. Bene, quindi mi raccomando per rendere nota sui cibi consigliati per mantenere i livelli di colesterolo quantomeno accettabili che ci ha fornito il dottor Maurizio Caggiano. E veniamo agli esempi perché poi la teoria un po' la sappiamo, ma quando è il momento di mettere in pratica quanto voi ci insegnate, ecco che ci arregniamo. Quindi un esempio di colazione. E qui stiamo in tanti a sbagliare, io mi metto nella distanza. Certo, allora la colazione innanzitutto sulla preferenza personale bisogna capire se orientarci sul dolce o salato perché poi la preferenza è soggettiva. Nel caso ad esempio di colazioni dolci si può spaziare dallo yogurt, in questo caso parzialmente scremato o scremato perché è la componente proprio lipidica dell'alimento poi sul lungo periodo a determinare gli aumenti di colesterolo. Colazioni sempre dolci può essere una fetta di pane tostato con della marmellata ridotto a tenore di zuccheri. Dipende, nel senso che dipende dal far bisogno personale. Comunque anche un paio di fette di pane tostato con la marmellata o del porridge. Sulla colazione salata ci sono per esempio i pancakes. Queste sono delle colazioni che sicuramente tenendo conto poi del resto della giornata possono essere un buon punto di partenza. Quindi possiamo dimenticare i biscotti dolci? Per i biscotti io suggerirei di leggere l'etichetta alimentare. Esatto, alla voce grassi di cui saturi si legge proprio l'etichetta di cui saturi quel valore diciamo che deve attenersi al di sotto del 10% rispetto ai grassi totali. Quindi fare questo rapporto. Scremo anch'io, i grassi saturi sotto il 10%. Esatto, sotto il 10% dei grassi totali. Chiaramente bisogna leggere anche la lista degli ingredienti perché se tra i primi ingredienti c'è comunque il burro non posso aspettarmi un livello di grassi saturi tanto piccolo come valore. Quindi addio al cornetto? Anche qui diciamo che in settimana, tutti i giorni il cornetto non è diciamo una scelta adeguata. Se prediligere i prodotti integrali potrebbe essere una valida alternativa, in particolare oltre l'integrale ci sono anche i legumi, un buon consumo di legumi in settimana, ad esempio a pranzo potrebbe essere una validissima... E poi arriviamo a pranzo, un esempio di pranzo. Esatto, ad esempio dei legumi da associare a del riso, della pasta, pasta integrale, un piatto di legumi oppure un secondo piatto, oppure posso consumare un primo, quindi una componente prevalente di carboidrati, quindi riso, pasta, da associare se voglio il piatto completo. Questa è bella ricca di condimenti, so che ce la boccerà. Sicuramente questa immagine è ricca di grassi anche saturi, vedo della pancetta, delle uova, sicuramente in questo caso ecco questo... Ciò che non si doveva fare. Questo è un piatto sicuramente da limitare, ma anche in questo caso... E però con degli accorgimenti, perché si mangia anche bene. Sì, 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 ma infatti dieta sono poi le abitudini alimentari del soggetto, non significa privarsi di alimenti o rimuovere completamente degli alimenti dalla dieta. Ma scegliere bene e gestire al meglio tutte... Anche perché rimuovere completamente può creare un rischio opposto, è quello di andare poi in malnutrizione, cioè non integro correttamente i livelli adeguati anche di grassi, grassi saturi, insaturi, colesterolo, i trigliceridi. Ecco, è importante anche a pranzo e cena condire con dell'olio a crudo, perché l'olio è una buona fonte di grassi insaturi. Sempre extravergine d'oliva. Esatto, olio extravergine d'oliva a utilizzare sia a pranzo che a cena, quindi deve comparire in entrambi i pasti. Questo è un suggerimento importante perché si tende poi ad associare magari l'olio all'ingrassare, quindi si evita in realtà nella giusta misura. Questo vale per tutti. Qual è la giusta misura? Indicativamente di sicuro circa sui 50 grammi, che significa 5 cucchiai, 4-5 cucchiai al giorno. Al giorno. Questo è in linea generale, esatto. Quindi a suddividere ad esempio 2 cucchiai a pranzo, 2 a cena o 1 e 1, poi questo il calcolo esatto è a seconda del fabbisogno della persona. Però indicativo tra 1-2 cucchiai di sicuro io ne consiglio il consumo perché è importante per la salute e per controllare anche i livelli di colesterolo. Ecco, abbiamo ancora un minuto, quindi un esempio veloce di cena? Esempio veloce di cena potrebbe essere o un secondo, di nuovo un primo, a seconda di cosa ho fatto a pranzo. In questo caso potrei consumare un taglio di carne, ad esempio magra, oppure delle uova, una frittata con delle verdure, accostare un accompagnamento con ad esempio del pane integrale. In questo caso, tenendo conto poi della giornata, posso andare a completare quelli che sono i vari introiti. Quindi alla sera io consiglio, supponiamo di aver utilizzato il primo a pranzo, un secondo con della verdura, anche la verdura... Quindi si vanno poi quelli che sono i principi della dieta mediterranea. Esatto, sì, sì. Magari non un primo e un secondo, ma un primo e un altro. Infatti la dieta mediterranea è proprio impostata per preservare quelli che sono poi, quelli che sono i rischi verso le malattie cardiovascolari che sono correlate anche poi agli aumentati livelli di colesterolo nel sangue. Ci ha dato un sacco di suggerimenti preziosi, un altro suggerimento è quello ovviamente di tenere il colesterolo sotto controllo, basta fare un esame del sangue. Un esame del sangue, esatto. Anche farmacia quindi... Sì, dove si va a determinare il livello di colesterolo totale, trigliceridi e almeno l'HDL. Poi l'LDL si può calcolare anche per calcolo inverso, quindi senza determinarlo direttamente nel sangue, si può anche poi determinare in via diretta con l'analisi del sangue. Bene, grazie per tutti i consigli preziosi che ci ha fornito, dottor Maurizio Caggiano, biologo, nutrizionista e grazie a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri telespettatori.